Buonasera a tutti, sono Elisabetta Margheriti e sono molto felice di essere qua oggi. Ringrazio Ilaria e Antonella per questo invito, un po' tornare a casa dopo questo periodo un po' complicato che abbiamo passato tutti e devo dire che la gioia di stare qua è vedere le piante, le persone che amano le piante e che amano questo posto che finalmente possono mettere la loro energia e possono finalmente fare una bella passeggiata, comprare, pensare ai loro terrazzi, ai loro giardini è sempre un modo per riunirci e per partecipare tutti insieme di quello che poi è la primavera e la rinascita che secondo me è necessario in questo momento che appunto ci ha visto così provati in un momento complicato. Quindi un applauso a questo momento, ci siamo ritrovati. Mi diverte molto questo pensiero di essere qua con Luca e Paolo, che adesso vi introduco, perché normalmente sono sempre dalla parte opposta, quindi non mi è mai capitato di coordinare un incontro perché normalmente sono quella che viene intervistata perché avendo questo vivaio di piante con una grande gamma di varietà e di specie, normalmente mi trovo a parlare di varie tipologie, di giardini, di produzioni e quindi questa volta invece sono insieme a Luca, poi Paolo ci raggiungerà, purtroppo stavo un attimo impegnato allo stand ma sta arrivando. Luca lo conosco da un sacco di tempo perché Luca è forse adolescente, quanti anni? 10 anni? Quando è che cominciavi a venire in vivaio da me? 14. Adolescente, veniva spesso col padre accompagnato per vedere le piante, per cercare le piante speciali, poi si infilava nel filare, nelle serre, lo dovevamo recuperare, poi si segnava tutto e poi controllava tutto e poi se lo studiava e poi tornava e poi le ricercava, poi grandi, piccole, foto. Ci ha avuto sempre, dimostrato una passione incredibile che noi spero un pochino abbiamo anche accompagnato. Come no, assolutamente. Quindi mi fa molto piacere poterlo intervistare oggi. La prima domanda che faccio a Luca è, voglio sapere perché vivaio le muse? Allora, salve a tutti, intanto anch'io ringrazio per l'occasione di poter raccontare quello che faccio in vivaio. E tutto è nato da una grande passione. Il nome del vivaio nasce in realtà per la nomenclatura che hanno dato a un genere, proprio le musacee, le zingiberacee e diciamo che da bambino le piante che più mi avevano colpito avvicinandomi al mondo delle tropicali erano state le eliconie che fanno in qualche modo parte delle muse e delle musacee e il nome gli è stato assegnato proprio perché sembravano le muse delle greche e quindi erano talmente belle queste piante che gli è stato dato questo nome. E io un po' per il fascino di queste piante ho voluto in qualche modo chiamare il vivaio così perché le colleziono e le coltivo anche io. Quindi hanno ispirato anche te. Sì, esattamente. Senti Luca, è un vivaio nato quindi dalla tua passione che sarebbe quella delle piante tropicali e subtropicali. Da dove parte questa passione? Qual è stata la prima pianta che ti ha colpito, di cui è stato poi l'inizio per fare questa ricerca e per seguire questa passione? Beh io praticamente da piccolissimo vivendo in campagna ho sempre potuto avere l'esperienza a contatto con la natura, quindi animali e piante. E all'inizio ero appassionato di qualsiasi cosa, fosse un po' particolare, quindi dalla pianta del tè alla pianta, tutte quelle piante che avevano un fascino storico insomma, oppure delle caratteristiche estetiche che fossero particolarmente vistose, mi appassionavano. E poi da lì in realtà le palme forse. Le palme? Le palme. Le palme sono state proprio questo sogno tropicale che mi ha avvicinato piano piano a questo mondo. Senti ma questa produzione quindi di piante tropicali, no? Sì. Allora, la tua passione, quindi la tua ricerca e poi penso hai cominciato a collezionarle. Poi quando è nato il momento che hai deciso, cioè dov'è che la tua strada ha preso la decisione, hai preso la decisione di intraprendere la strada del vivaismo, cioè perché il vivaio? Allora, tu che mi conosci da un sacco d'anni sai che io praticamente ho frequentato il loro vivaio tantissimo perché chiaramente erano l'esempio lampante dell'acclimatazione, i primi che hanno importato piante dall'Australia. Quindi era per me piccolo avere l'occasione di vedere dal vivo piante che si vedevano soltanto nei cataloghi e nelle enciclopedie o in libri e quant'altro. E man mano ho continuato a frequentare mostre mercato fin da piccolissimo e a collezionare piante. E quindi in realtà il vero laboratorio del mio vivaio è stato il giardino dei miei, in cui io acquistavo, piantavo e sperimentavo. Tanti andavano bene, tanti meno e in realtà è cresciuto il giardino. Il giardino a un certo punto conteneva veramente un'infinità di piante e io ho proseguito anche i miei studi in merito. Quindi ho fatto un istituto agrario e poi ho fatto l'università a Perugia, proprio un corso di botanica. Naturalmente io poi sono finito nel produrre e nel scambiare prima e poi vendere dopo, partecipando alla prima mostra che è stata un po' di anni fa. In realtà ero veramente piccolo quando ho fatto anche la prima mostra e l'ho fatta con le piante che moltiplicavo dal giardino. Che vuol dire comprare e scambiare? Perché scambiare? Allora, perché le piante sono la prima occasione di condivisione in realtà. Non si può essere gelosi delle proprie piante perché, come diceva Peter Smitter, il vero piacere di possedere una bella pianta non è completo finché non la si regala ad un amico. E grazie a questo scambio, quindi grandi amici più grandi di me che mi davano pezzi, foglie, semi e io piantavo. E io faccio la stessa cosa e cerco di fare la stessa cosa continuamente perché è importante condividere questa passione, ma anche queste piante che in realtà, come appassionano me, spero che nel regalarle, venderle, consigliarle a qualcuno possano appassionare anche qualcun altro. Assolutamente. Senti Luca, quindi la passione delle piante tropicali e subtropicali ti dovrebbe aver portato a fare dei viaggi, o mi sbaglio? Perché normalmente chi le ha piccole in vivaio le vorrebbe vedere grandissime in natura. Sì. Questo è stato così, hai viaggiato molto per vederle? Sì, sì, sì. Io tuttora faccio viaggi proprio per vedere come crescono in natura le piante. E io facevo praticamente il viaggio da voi in vivaio per vederle, però era sempre una condizione chiaramente di coltivazione. Così faccio dei pellegrinaggi in posti specifici tipo il Sud Africa, tipo la Thailandia, adesso vorrei partire per il Centro America, vorrei andare in Ecuador, per vedere effettivamente come crescono queste piante. Perché io penso che posso dare un consiglio effettivo di coltivazione e quindi avere un successo anche con una pianta piuttosto che con un'altra, con un genere piuttosto che con un altro, solo se so nell'intimo dove cresce e dove vive. E poi soprattutto lo stupore di vederle in natura come sono, nel loro areale di distribuzione. Beh, diciamo che è stato un periodo dove il tropical è stato piuttosto cavalcato, che direi, nel senso che è entrato un po' nell'immaginario, forse per cambiare quelli che erano l'immagine di quello che potevano essere le piante autoctone, mediterrane, per rompere un po' anche certi schemi. C'è stato questo periodo dove sono state molto utilizzate le piante tropicali, no? Quindi volevo chiederti, tu in questo periodo, quali sono state le piante che secondo te poi hanno avuto una resa migliore? E quali sono state le più richieste? E se pensi che anche ora, in questo momento, questa crescita sta aumentando? Ma in realtà per me è stato un vero stupore rendermi conto che ragazzi molto giovani durante il lockdown siano impazziti totalmente per alcuni generi e che veramente io su Instagram, sui social, continuamente vedo camerette veramente affollate di ogni genere di piante, in particolar modo di filodendri e piante che, un po' delle nonne anche, però adesso sono tornati di moda, le mostere sono diventate veramente un preziosissimo genere botanico e la specie, il genere più di moda in questo momento sono i filodendri, filodendri, anturium e mostere che sono tutte piante che vengono coltivate da sempre come piante d'appartamento che il mercato olandese propone da sempre, ma adesso si riescono a trovare anche specie che in anni passati erano rarissime. Per esempio, proprio qui nello showroom c'è un filodendro melanocrisum che adesso lo vediamo alto così con delle foglie gigantesche e solo qualche anno fa era impossibile da vedere e forse ce n'era soltanto un esemplare ai giardini della Mortella e la gente che lo sapeva andava proprio in pellegrinaggio a vedere quella pianta. Quindi il fatto che ci sia stata questa esplosione di passione tra i ragazzi e che insomma pure le camerette diventano delle giungle tropicali è una cosa... Quindi la passione per le piante tropicali secondo me è passione ai giovani, cioè nel senso questo boom, perché ho lavorato molto anche con tanti locali a Roma, quindi strelizie, washingtoni... Tutto lo stile jungle. E continuiamo a cavalcare lo stile jungle, come mi dico, no? Sì, stile jungle, assolutamente. Ma me lo sono chiesto perché ho avuto per anni delle serre con centinaia di strelizie che erano considerate delle piante vintage, come dei glicimi, con più come la cuba, piante che non venivano vendute mai. Quindi questo boom mi ha molto interessato. Quindi volevo capire, secondo te è un fenomeno dovuto anche ai social, dovuto alla divulgazione diversa, perché è molto interessante capire, no? Cioè una volta quando c'era il periodo delle fioriture, noi normalmente uno spartiacco importante era il Chelsea Flower Show. Chi era andato al Chelsea sapeva perfettamente quali erano le piante da scegliere per il giardino e quali sarebbero state le piante in produzione che avrebbero funzionato l'anno seguente. Era veramente, forse no, lo show più importante che dettava veramente le mode nel nostro ambiente. Quindi tutto il periodo white, tutto il periodo super naturale mediterraneo, spontaneo, sostenibile. La minacee. Invece per quanto riguarda questa parte tropical jungle è stato un po' diverso secondo me. Io almeno l'ho vista in maniera diversa. Quindi ti volevo chiedere, secondo te, chi ha lanciato la moda? Secondo me è il periodo proprio di lockdown. C'è stata una spinta atavica dentro di noi che ci ha portato a volere delle piante in casa. Proprio riportandoci a zone lussureggianti che ci ricordassero le spiagge dove forse non potevamo in quel momento andare. E questa abbondanza di foglie, di fronde, di fiori assolutamente appariscenti che poi fondamentalmente è quello che ha sempre appassionato me e che mi ha realmente avvicinato. E infatti tantissime persone che vengono anche in vivaio mi dicono io ho cominciato durante il lockdown. Io ho cominciato in questo momento in cui mi sono appassionato effettivamente e proprio con queste piante tropicali, con questo stile jungle, che quindi fronde, orchidee, filodendri, strelizie che appunto prima erano ritenute le piante che insomma invece adesso sono ricercatissime. Allora però a questo punto facciamo anche un po' di domande a Paolo Gullino che ci ha finalmente raggiunto. Sono molto contenta di incontrare la nostra prima volta e quindi voglio parlare con lui. Mi incuriosiscono molte cose, mentre appunto Luca, lo conoscevo come vi ho raccontato, di Paolo ho dovuto un po' più studiare. E allora dal Piemonte, poi la Toscana con questa azienda che si chiama Piante Innovative e poi è pure questa associazione, no? Che questa è nata per la progettazione, giusto? Nel 2015? Sì. Più o meno. Allora, prima parleremo di piante innovative, però quello che voglio chiederti subito, riallacciandomi a quello che stava appunto raccontando adesso Luca, parliamo di questo momento di lockdown, dove comunque per certi aspetti ci siamo tutti riavvicinate un po' alle piante. Chi non l'ha potuto fare non avendo magari un esterno, ha preferito mettere delle piante da interno e quindi appassionarsi a questo. Ma chi ha avuto la parte esterna? C'è stato un grande boom dell'orto, c'è stato un grande boom appunto di autosostentamento, cioè il non uscire ha fatto scattare invece la molla di devo mangiare, ma devo nutrire. E quindi veramente forse l'orto è stato, le piante da orto sono state quelle che hanno avuto un boom di vendite, ma anche proprio psicologico secondo me. Ci racconti un po' sulle tue piante innovative come è stato vissuto questo periodo di lockdown, cioè tu che feedback hai avuto da questo periodo così complicato? Grazie dell'invito e della presenza in questa magnifica cornice di Flora Calte. Io la prima volta che sono qua appunto fu proprio il lockdown a interrompere la nostra conoscenza nel 2020 e ripartiamo da lì, da questo tratteggio che continua. Faccio presente che questa ricerca di piante innovative è una ricerca che continua, non è che si può esaurire perché io ne scopro ogni anno, grazie anche alle persone che incontro, ai dialoghi del settore o non del settore, di appassionati, ne ritrovo sempre qualcuna, dico questa potrebbe essere una pianta innovativa. È uno sguardo in avanti che si propone con queste specie botaniche, uno sguardo alla sostenibilità del nostro futuro, alla natura, alla cultura, anche proprio della cultura della civiltà contadina, al recupero dei semi, quindi noi abbiamo sempre tenuto la sostenibilità, l'autoproduzione come punti di riferimento. E proprio durante la sospensione, il lockdown, molte persone si sono accorte di questa lacuna, che il nostro tempo così accelerato ci spinge e ci porta. E quindi hanno cercato di recuperare, magari ritagliando nel giardino un pezzettino di orto, integrando quello che potevano fare all'aria aperta, riscoprendo la gioia di stare all'aria aperta. Addirittura i nostri vicini, noi abbiamo un vivaio molto curioso, un vivaio di collina, nascosto in campagna, quindi riceviamo le persone proprio un po' su appuntamento, perché non è facilissimo raggiungerlo, ma i nostri vicini di paese, che non si potevano muovere più di tanto, sono finalmente venuti a scoprirci, hanno scoperto questo mondo di orticole curiose. Ma ce l'hai un cetriolo? Dico, sì, guarda, c'è il Kaiser, c'è la Caigua, ci sono il cetriolo serpente. E quindi gli ho dato anche delle varietà un po' particolari, sono venuti poi a riferirmi. Ma io ho mai visto una pianta del genere, la Caigua mi ha fatto 10 metri, mi ha riempito la rete, quindi anche la sorpresa, no? Di riscoprire queste piante apparentemente non convenzionali. E proprio il lockdown ci ha dato a tutti modo di soffermarci, di rallentare e di seminare questo presente, che poi continua, ecco. Sì, io devo dire che io sono sempre andata in bivaio, no? Perché sai, eravamo delle poche categorie che non si potevano permettere ancora di andare. E è stato sempre, è terapeutico, anche per tu che ci vivi, anche per me che sono 20 anni che sto là, ho avuto un grandissimo conforto a trovarmi in bivaio, è stato molto importante, quindi ho pensato che di riflesso fosse la stessa cosa. Allora, io durante, ogni tanto mi hanno intervistato, mi chiedevano le cose, spesso mi chiedevano allora ma quali sono le novità, ma quali sono le piante nuove, ma quali sono le piante che possiamo produrre, ma quali sono le piante del nuovo millennio. E io mi ricordo che andavo dal babbo e gli dicevo, babbo, ma secondo te, ma che novità, cioè quali potrebbero essere le piante nuove che potrei proporre. E lui mi diceva sempre, guarda che qui non inventa niente nessuno, tu vai nella natura, quello che c'è, c'hai tante cose da imparare, secondo me qualcosa di nuovo la trovi. Allora, leggendo le tue cose Paolo, questo Piante Innovative, ho avuto questa stessa, la racconto perché ho avuto questa stessa sensazione, quindi raccontaci perché Piante Innovative. Ecco, questa domanda ci capita spesso, diciamo, io poi ho, avendo anche studiato il restauro dei beni culturali, mi piace avere uno specchietto retrovisore, ma un po' a tutti quelli che si appassionano di giardinaggio, di capita, sulla storia, soprattutto nel tema di giardino, che si differenzia un po' dalla pratica dell'orto, dove miriamo a produrre, perché dobbiamo essere organizzati, ortogonali, file e raccogliere. Un giardino ci dà più tempo, ci dà più, anche un po' un diario, dove uno le piante che trova, se le cura, le studia, le osserva, vede come si comportano insieme alle altre specie lì presenti, che cosa succede, è proprio uno spazio di osservazione. Le piante innovative è una ricerca, è una ricerca sulle piante antiche, sulle piante perdute, lo sappiamo, oggi abbiamo perso l'80, forse l'85% delle varietà alimentari del mondo, del mondo contadino, del mondo rurale, perché negli anni 60 sono successe tutta una serie di cose per cui la gente ha mollato le campagne, migrando verso le città. Ci sono rimasti dei frammenti, noi con questi frammenti, un po' come il lavoro del restauratore, abbiamo fatto un recupero, non esaustivo, un mosaico di queste piante andate e perdute dagli anni 60 in poi, recuperando anche la storia, il perché quella pianta, che cosa dà, la curiosità, ma guardando avanti, quindi a tutte le accezioni del nostro futuro prossimo, piante che possono veramente avere un risvolto quasi tecnologico, penso al nelumbo lucifera, che lo conoscete, ma che può diventare una super vernice che non si sporca più, o piante, io poi porto sempre qualche esempio da far vedere, tutto è iniziato, ci tengo a dirlo, con la pianta della canapa. Nel 98 era veramente l'alba di questo ritorno in agricoltura della canapa tessile e mio padre fu uno dei primi agricoltori a raccogliere questa pianta nei suoi campi. Non vi dico tutte le traversie, veramente di tutto, però il tema era questa pianta ha tirato su il nostro paese, le sacche delle poste, le giubbe, dei militari, le corde delle navi, le vele, i monumenti, tutti i bei monumenti che abbiamo in questo paese sono stati tirati su con le corde di canapa. Dobbiamo ridare qualcosa a questa pianta, perno dell'agricoltura. Ed è avviato e si è avviato questo recupero, che poi si è declinato in tante altre specie, in vent'anni circa ne abbiamo accolte diverse. Quindi è una ricerca. È una ricerca. Allora, a questo punto vorrei andare un pochino più dentro la parte botanica, quindi vorrei sapere un po', Luca, facciamo così, per non poter parlare di tutte, parliamo un po' delle tue preferite, quelle che tu oggi coltivi con più facilità, che possono essere più adattabili anche ai nostri giardini, ai nostri terrazzi, alle nostre case. Ecco, dimmi le top 5. Top 5. Nella top 5 diciamo che un genere che non viene quasi mai menzionato come pianta da giardino sono le bromelie, che sono delle piante fantastiche, pure loro sono state utilizzate sempre come piante d'appartamento d'arredo, ma in realtà sono piante che in giardino, anche a pieno sole, stanno molto bene. E noi che abbiamo un paese che ci offre tante coste, e quindi dei microclimi molto favorevoli, queste piante hanno un ottimo risultato. Poi ritornando, insomma, alla mia grande passione, è anche le palme. Purtroppo sono bersagliate da diversi problemi, direi. Da diversi problemi che abbiamo importato da varie parti del mondo, però pure le palme sono delle piante fantastiche, che io coltivo da tanto tempo, e che hanno sempre dato, insomma, in un giardino grande struttura per la loro forma. Tra le palme, quale palma? Diciamo, il sogno proibito, che in realtà qui non posso coltivare, è la bismarchia. Se io avessi un giardino in Sicilia, sicuramente metterei questa palma, che ha una struttura architettonica magnifica, sembra una scultura d'acciaio, perché è grigia, e ha delle foglie enormi, e da sola veramente può fare la composizione di un giardino, è veramente fantastica. Le top 5, è difficile perché io sono appassionato di qualsiasi cosa, perché cosa scelgo? Frutti feritropicali, sicuramente, le plumerie, le plumerie e i frangipani, che sono, insomma, per chi è siciliano, veramente un ricordo di tante occasioni, matrimoni, venivano regalati. Sì, appartiene al territorio, c'è dei ricordi la plumeria, certo. La plumeria, sì, anche nella nostra tradizione in Sicilia, in particolar modo, a Palermo c'è proprio un ricordo di tradizione. e plumerie e i biscus anche, e i filodendri e felci, sicuramente. Tutte queste piante che, appunto, proprio caratterizzano il fascino tropicale. I filodendri pure sono un genere che possono in realtà essere acclimatati, non soltanto coltivati dentro casa, ma in tanti, per esempio, anche a Roma, a Chiostri, strade un po' più riparate dai venti, ci sono tantissime mostere e mostere che vivono all'aperto e in maniera lussureggiante. Senti, tutte queste piante tropicali, no? Come si uniscono con quelle che sono invece le nostre piante mediterraneo-autotone? Cioè, ci sono alcune piante di scelta preferita che si possano unire per manutenzione, per coltivazione, per esigenze con le piante tropicali? Sì, in realtà, sì, le piante tropicali che possiamo acclimatare nel nostro clima si mixano molto bene perché in realtà molte piante esotiche provengono da climi che sono simili ai nostri, quindi Nova Zelanda, Sud Africa, California, e hanno sia delle forme, sia dei colori, sia delle condizioni climatiche di suolo in cui si trovano. Poi, appunto, voi siete stati i primi ad importare le piante dall'Australia e è stata forse la nascita di un nuovo stile di giardino. Allora si possono mettere i dasilirium che hanno uno stile molto rigido con delle graminacee che invece sono più morbide e con altre cose, rosmarini, lavande. Anche le bromelie. Le bromelie sono piante che stanno molto bene in pieno sole e possono essere mixate con tutto questo altro genere di piante. Quindi le esigenze, secondo te, sono comunque simili e le possiamo coltivare insieme. O dobbiamo fare delle attenzioni particolari? Sicuramente delle attenzioni particolari. C'è chi ha un microclima molto speciale che magari si trova nelle coste e non è abbattuto dalla tramontana e allora ha delle condizioni che favoriscono la coltivazione delle piante tropicali. Altrimenti il processo di acclimatazione va fatto un po' per volta quindi cercando all'interno del giardino le zone che siano più favorevoli che esistono sempre. È chiaro che un giardino maturo crea anche lui stesso un microclima. Un giardino dove ci sono dei grandi alberi dove c'è già una casa che protegge con delle siepi. È chiaro che crea anche in un giardino molto piccolo o in giardini grandi dove ci sono tanti alberi si crea un microclima per cui all'inizio della costruzione di un giardino quando non c'è niente è più difficile magari inserire degli elementi esotici ma quando un giardino è ben strutturato e c'è un microclima particolare proprio dato dalle piante e dagli alberi che praticamente discutono tra di loro in qualche modo si proteggono tra di loro se abbiamo un sempreverde sotto al sempreverde possiamo mettere dei filodendri se ci troviamo a Roma per esempio Creiamo nuove amicizie creiamo nuove amicizie assolutamente Paolo ora tocca a te voglio sapere quale sono le cinque piante che ti piacciono di più che coltivi più volentieri che hanno avuto più successo come produzione insomma dimmi le tue beh sarebbe una top 100 ma lo so però dicene intanto le tue cinque allora io poi sapete sono un segno di terra ma del capricorno ritorno alla canapa che tuttora l'ho seminata due giorni fa ho fatto un ettaro a file di canapa voglio dimostrarvi la sua forza questo è uno stelo dell'anno scorso di canapa dovrei farlo materare quale altra pianta possiamo coltivare nel nostro clima italiano che ci dà una fibra di sale potenza io non ne conosco uguali guardate ho coltivato i cotoni la iuta il penato tante piante dell'ortica ma una pianta chiaramente andrebbe lavorata con questa fibra poi per non parlare della cellulosa pur al 98% bioplastica biopolimeri mattoni costruire case veramente dalla terra dal suolo senza andare a scavare ghiaia a drenare poi della canapa si usa tutto tutto lascia due tonnellate di humus per ettaro io ho migliorato un terreno poverissimo che abbiamo a Pisa proprio grazie a questa coltura spogliandolo delle infestanti perché la canapa domina quindi mi ha dato anche mi aiuta proprio a livello agricolo a mantenere lo spazio che abbiamo in cura quindi questa top one top one una delle cucurbite più curiose che vi accenno è questa piantina qua cucurbita picifolia da non ingannarsi adesso è un piantino questa è originaria del Sud America come tante altre zucche ma è un po' selvatica a fine corsa produrrà questi frutti questi frutti si possono raccogliere e conservare per 4-5 anni tranquillamente è chiamata anche capelli d'angelo per via della sua polpa filamentosa bianca dolcissima ci si fanno ottime confetture guardate che bella che è bella ma la potenza di questa pianta quasi selvatica due anni fa proprio durante il lockdown poi mi sono divertito in esperimenti agricoli di tutti i tipi l'ho avuta di 35 metri ha scavato due o tre alberi e aveva qualcosa come 40 frutti attaccati che momenti a quell'altezza mi prendevano in testa pure per dire la potenza selvatica di queste piante di una volta top 2 una che mi è rimasta nel cuore la conoscete ora questo è un piantino anche limitato ma è l'aglione Allium Ampeloprasum Olmense io da Buona Toscana seguo è una pianta straordinaria come dice il nome lo tradisce è un porro in realtà non ha poco a che fare con l'aglio se non diciamo di famiglia però sono riuscito a riportarlo allo stato selvatico ho lasciato semplicemente un bulbo senza toccarlo a volte la natura basta lasciarla fare e nel corso di qualche stagione ti spiega cosa succede l'ho riportato allo stato selvatico che dicono questo è un porro selvatico invece ridividendo diciamo i butti ritornerebbe l'aglione l'aglione fa un capo che può raggiungere anche il mezzo chilo io lo butti di otto etti dalla forma di un aglio le piante adesso sono alte così in piena terra chi ha spazio un orto lo introduca perché è una pianta generosa si può mangiare tutto e non lascia quell'alito sì perché ha un sapore diverso dall'aglio più dolce più digeribile più vicino al porro è una pianta che anche questa la ritrovate in molti testi ottocento c'è un bel testo potagé d'un curio francese che ne parla è mesembriantem un cristallineo qui si intravede forse ma se lo porto alla luce del sole vedete le foglie brillano di luce propria hanno delle riserve d'acqua buonissima da mangiare cruda questa è una pianta gourmet per gli chef che vogliono completare i loro piatti con qualcosa di brillante questa è un'ottima 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 scelta faccio un accenno quindi siamo alla top 4 questa ma vi ripeto potremmo andare avanti di cento in cento e non esaurire la ricerca la stevia la stevia è una pianta che ci ha dato il la per comprendere meglio questa cornice questa ricerca che stavamo intraprendendo perché è una pianta che è stata diciamo limitata nonostante la scoperta da parte di Bertoni la promessa di diventare una pianta utile a chi ha problemi con lo zucchero è stata anche boicottata è stata limitata diciamo nel suo nel suo possibile crescere proprio perché c'è molto interesse ma anche con la cana per successa una cosa simile questo è un tema che magari esula dal giardino ma è importante le piante come fonte come acqua di sorgente vorrei dire scusate le vene poetiche ma è doveroso la stevia nel 2008 ci ha dato veramente la comprensione di quante piante non si conoscevano o non erano presenti ma che avrebbero avuto un potenziale nel mercato nell'orto e anche diciamo nell'autoproduzione di qualcosa di utile come la foglia dolce della stevia tra le cose che ho letto di te sicuramente una cosa che mi ha colpito è questo recupero anche degli ortaggi un po' scomenticati vorrei tantissimo spero che mi inviterai prima o poi a cena a casa tua perché è una cosa che desidero molto raccontaci un po' di questi ortaggi perché dimenticati perché facevano erano degli ortaggi che coltivavano magari i nostri nonni che non si usano più e come è stato questo recupero ma allora sicuramente c'è molto del mercato anche diciamo del mercato del mercato ortofrutticolo che seleziona standardizza o omologa tante di queste piante hanno frutti diversi anche sono entrato in contatto con un'associazione Seed Savers in America loro conservano piante presenti sul territorio americano andate perse dopo gli anni 50 orticole prevalentemente solo di pomodori ne hanno 8000 cioè anziché avere i soldi di 4 noi potremmo contare su una banca anzi su una libreria dei semi di più di 8000 varietà solo di pomodori noi nel senso il bacino di ricerca è molto ampio queste piante a me anche per dire queste zucchine le zucchine a stella le patisson conosciute come patisson tanti ah ma è decorativa no questa è una zucchina vera e propria la mangi in padella chiaro non quando è corazzata quando è giovane questa è stata scartata perché non si imballa bene se voi riempite una cassetta non si riempie bene la cassetta quindi è stata scartata tanti pomodori no che magari hanno la pelle più sottile scartati cetrioli fuori misura coltivato per esempio il cetriolo armeno chiamato anche melone serpente può raggiungere un metro e mezzo e chi lo porti al mercato a spalle lo vendi a pezzi nel senso lì bisogna veramente avere una filiera diretta con chi poi le usa queste piante non passare dalla catena di distribuzione o addirittura autoprodursele che è la cosa migliore che taglia corto la filiera però allora stiamo andando parliamo tantissimo di sostenibilità e sicuramente quello che più secondo me è di attualità e se ne parla molto anche perché appunto abbiamo bisogno impellente totale di poter anche in qualche maniera preservare il nostro futuro e il nostro pianeta quindi io penso che un po' c'è una sensibilità che sta crescendo forse con le sicuramente con le tecniche agronomiche di cui tu parli di tornare un po' indietro per poter poi valorizzare non solo le specie che vengono prodotte ma anche l'orto i nostri giardini tutto quello che possiamo utilizzare per essere anche autosufficienti ma anche a livello proprio ornamentale per avere delle tecniche di produzione che sfruttino poco nel terreno che utilizzino gli insetti buoni tutto questo che è molto importante secondo me che è un ritorno quasi necessario se veramente vogliamo essere sostenibili e se veramente vogliamo parlare di questo volevo chiederti nel mondo giovane che tipo di riscontro hai? beh è polare nel senso c'è interesse? molto io sono in contatto con i coetane ma anche spesso questi mercati parliamo molto c'è molto entusiasmo di fronte a questa riscoperta certo che va fatta in chiave moderna non possiamo pensare di tornare a come coltivavano i nostri nonni o bisnonni 60 anni fa perché è un lavoro non avremo più la schiena per farlo per fortuna già solo la canapa questa e io la definisco una pianta spia nel senso di riferimento cioè ti dice come è andata è una pianta storica quindi la storia insegna nel senso delle piante poi la storia è sempre anche positiva e ricca di varie sfumature i giovani oggi devono guardare avanti la permacultura la sostenibilità non fatta come 60 anni fa quindi a suon di mani e di calli certo la fatica sentire quanto ci mette effettivamente un'insalata arrivare a essere matura aspettare la pazienza ma in chiave moderna ecco perché innovative ecco perché diamo una rilettura di quello che è stato cercando di fare del nostro ecco la parte creativa che ci coinvolge e rinnova tutto questo che è fondamentale perché altrimenti questa grande revolution credo che siamo un po' lontani a farla no? cioè io io come sentore chiaramente ho quelle persone che vengono a trovarmi in vivaio e difficilmente vengono a parte presente difficilmente vengono dei ragazzi giovani oppure vengono mi dicono ah che bella questa pianta devo portare mia madre perché questa pianta mi piacerà tantissimo perché a te ti fa schifo cioè qual è l'approccio che tu hai nei confronti della pianta intervistare voi due quando parlavamo con Antonella era un po' anche da questo punto di vista cioè mi interessa tantissimo sapere quali sono le cose che allora domani possiamo raccontare per avere poi un pubblico giovane che dia poi future forze a quello che è questa nuova forza di sostenibilità che dobbiamo per forza noi siamo obbligati ad andare su questo percorso io penso a tantissimo a tutti gli alberi che dobbiamo piantare a dove piantarli a come piantarli parlo tantissimo di questo mi sono messa in mezzo a un progetto che per la salvaguardia dell'Amazzonia di cui capisco la metà a volte delle col che fanno però lo trovo è un obbligo perché voglio sentire partecipe un pezzettino come penso che siete un po' voi in questo momento qua con me come facciamo poi che ci sia un futuro certo secondo voi domanda difficilissima beh secondo me c'è la necessità di sensibilizzare il più possibile in merito a questi temi e prendere ogni giorno delle decisioni e fare delle scelte che siano sostenibili sia nella produzione sia nel cioè quindi preferire l'autoproduzione piuttosto che anche io faccio una produzione che posso definire artigianale quindi preferisco per esempio i vasi che siano riciclati riscaldare con biomassa piuttosto che con gasolio e prendere tutte queste decisioni che chiaramente sono più complicate perché però vedi che un aglione non sia proprio bellissimo ce lo possiamo aspettare però un filodendro deve essere verde lucente cioè il mercato ti richiede una pianta che sia top appunto perché tu la stai mettendo dentro la tua casa non il tuo giardino allora una pianta che invece è un po' più gialla che tu hai autoprodotto perché magari hai utilizzato dei materiali diversi che comunque sono sostenibili come come facciamo quindi per essere accattivanti sul mercato e glielo spieghiamo? sì c'è la stessa difficoltà del vendere un'annurca con un bozzetto e vendere la gold lucidissima al supermercato devi cercare di far assaggiare l'annurca e fargli capire quanto quella sia migliore perché effettivamente un prodotto industriale perché il vivaismo in Olanda è un'industria quindi ci sono dei pezzi ogni metro quadrato deve produrre tanto e tanti soldi e le piante devono essere tutte uguali è chiaro che la stessa pianta coltivata da me avrà un aspetto molto differente però tirata fuori da quell'incubatrice la pianta è chiaro che ha delle difficoltà perché una pianta tenuta appunto con l'insolazione sempre costante l'umidità sempre costante è chiaro che sono stupende meravigliose però magari quando le portate dentro casa hanno un attimo un contraccolpo che non per portare acqua al mio mulino ma le mie piante che in realtà sono vissute cresciute moltiplicate in maniera naturale non hanno perché ci hanno hanno sopportato hanno vissuto più naturalmente uno sviluppo sono partite da seme non sono partite magari da micropropagazioni che comunque a livello genetico peggiorano la vigoria delle piante è chiaro che una pianta fatta da talea una pianta fatta da seme una pianta moltiplicata appunto recuperando i semi dell'orto cosa che ci è sempre stato detto che non dobbiamo fare perché sennò esce fuori un'altra cosa oppure farle da talea piuttosto che micropropagarle fa sì che quella pianta abbia una genetica molto forte e quindi le piante che noi portiamo dentro casa è vero che lì per lì possono sembrare leggermente meno belle però è come avere un pezzo insomma di fatto a mano e piuttosto che una cosa industriale che dici che dici Paolo quindi come facciamo per lasciare una traccia importante credo che questo sia necessario questo è proprio il punto centrale c'è da chiedersi se Biancaneve la famosa melanurca col bacola l'avrebbe mangiata anziché quella bella secondo me sì secondo me sì ma era più buona no certo va visto tutto direttamente questa cosa che ci ha riferito lui è vera io tante volte vedete ho dei piantini ho delle serre non le scaldo con il gasolio anch'io ho la politica di recupero al massimo livello delle plastiche prima che finiscano a inquinare ulteriormente il mondo e spesso le persone ritornano con sorpresa perché hanno preso un piantino e mi mandano le foto e dico ma questa è diventata appunto una ficifolia una signora è entrata in casa conquistandogli il caco e il tetto della veranda veramente delle produzioni angurie lune e stelle di 15 chili un piantino grosso così un signore venuto un mese fa eravamo a una fiera a Rimini ci ha portato la foto di un cavolo bastone preso da una bustina come quelle che abbiamo qui tre metri e mezzo di cavolo bastone andava con la scala felice come se fosse in paradiso a raccogliersi delle foglie di un metro e passa dice io mai visto una pianta del genere 85 anni tra l'altro quindi gli hai dato anche una gioia grande lui mi ha trasmesso a me è questo concetto che poi crea terreno su cui noi possiamo costruire le nostre piccole aziende le nostre filiere ma anche i nostri dialoghi i nostri scambi allora credo che se avete due realtà importanti grandi non mai piccolo perché vedete quando un'azienda grande come posso aver avuto io che poi negli anni aveva tutta la collezione di tutto tutta la collezione delle clematis tutte le collezioni le passiflore poi le palme poi piano piano il mercato si è appiattito si è globalizzato nessuno ti ha più chiesto la varietà la specie ti hanno chiesto lo voglio giallo lo voglio rosso lo voglio vedere non deve spolcare che dia poche foglie e frutti senza frutti si è poi abbassato quindi questa ricerca botanica che era così eccellente perché negli anni 70-80 erano vero Antonella divertentissimo tutti si scambiavano le piante tutti a chi ce l'aveva di più le varietà era un boom incredibile oggi si è completamente appiattito quindi sono molto contenta di aver parlato con Luca e con Paolo che sono due realtà che invece sono una luce importante perché quello che fanno è una faticosa ricerca botanica che mettono a servizio e quindi lunga vita ragazzi lunga vita grazie grazie mille non so se ci sono delle domande che volete rivolgere a Luca e Paolo io vi lascio la parola e grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille